Bentornati amici nel canale di Mr. Joe. Analisi di Juventus e Stoccarda. Il titolo di oggi è Sconfitta meritata. Meritata, sì, senza dubbio. Ci sono delle attenuanti, assenze importanti sia in difesa che in avanti, ma faccio davvero fatica a trovare aspetti positivi in questa gara. L'analisi è a tutto vantaggio dello Stoccarda. Una Juve in difficoltà in ogni fase di gioco è uno Stoccarda a cui è mancata solo la cattiveria sottoporta per chiudere, ahimè, anche prima dei minuti finali, il risultato. Ma prima di approfondire il tema, non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like. E via con la sigla! Dicevamo, uno Stoccarda che, come già indicato da Motta, viene a Torino per giocare a viso aperto e senza alcun timore. Una squadra che ti pressa alta con molti uomini e che ti aggredisce immediatamente nelle transizioni negative, anche a costo di scoprirsi eccessivamente. Lo Stoccarda attacca sin dai primi minuti la Juventus con un pressing ultraoffensivo, chiude ogni singolo uomo e impedisce alla Juventus di poter uscire dalla fase di avvio dal basso. La superiorità numerica dello Stoccarda è evidente in tutte le zone del campo. Sulle fasce si soffre a sinistra su Cabal, negli uno contro uno e a destra, con Savona e con Seisau, la Juventus sembra essere sempre più sofferente. Raramente la squadra di Motta velocizza la sua fase di avvio e, su un cambio da destra a sinistra, Cabal tenta una verticalizzazione palla al piede e la Juventus riesce ad eludere il pressing dello Stoccarda, ma senza però rendere efficace la ripartenza, a causa della poca organizzazione e dell'aggressività dell'avversario, nell'andare a recuperare la palla. Lo Stoccarda fa pressing offensivo con i terzini e i due esterni dentro al campo o a braccetto lateralmente, per dare superiorità numerica sulle manovre laterali. E proprio dalle manovre laterali nel primo tempo che lo Stoccarda sembra prendere molto più campo e, oltre che schiacciare la Juventus, si fa pericolosa anche in diverse occasioni. Anche alcune imprecisioni nelle posizioni senza palla in fase di non possesso permettono allo Stoccarda di essere pericolosa. Il tempo passa e la Juventus sembra non migliorare. La pressione dello Stoccarda è costante. Per poter far questo i tedeschi sono costretti anche a rischiare dei contropiedi e giocano spesso con una linea a tre come ultima difesa e anche in parità numerica. Ed è proprio in quelle ripartenze la Juventus è poco riattiva, imprecisa nei passaggi e negli uno contro uno. Nel bel mezzo del primo tempo Motta dà un'indicazione alla sua squadra. Chiede a Cabal a sinistra, lì dove lo Stoccarda sembra essere meno incisivo, di rimanere alto in modo da alzare il baricentro della sua squadra attraverso la manovra laterale e, per non scoprirsi troppo, chiede però a Fagioli una maggior copertura, posizionandosi in linea con la difesa a supporto del difensore centrale. Questa variazione tattica non sembra dare i suoi frutti, perché Cabal deve contenere il suo avversario che lo sovrasta sul palleggio e la corsa e Danilo deve andare a raddoppiare la fascia sinistra a causa proprio del fatto che Cabal non riesce a tenere a bada il suo avversario. E in fase di possesso, con Fagioli così basso, probabilmente la Juventus è troppo distante tra i reparti per poter ripartire con efficacia. Mi riferisco a Fagioli e Turam, molto bassi entrambi, e a grande distanza da McKennie, isolato insieme a Vlaovic, sempre ben marcato, e Ilditz esterno anch'esso da solo. Nel secondo tempo la Juventus non cambia uomini e ci si aspetta un atteggiamento differente, ma gli equilibri non cambiano. Molti avranno pensato anche ad un possibile avvicinarsi del calo fisico dei tedeschi, che comunque hanno viaggiato ad una velocità dalla media elevata. Ed invece lo Stoccarda parte agli stessi ritmi e schiaccia letteralmente la Juventus nella propria area grande. Pur riuscendo ad uscire dal pressing come intorno al sessantatresimo con un passaggio preciso di Calulu in verticale, la Juventus riparte, ma con troppi pochi uomini, e lo Stoccarda ripiega con un numero di uomini sufficienti a contrastare il contropiede juventino. Le prime sostituzioni di McKennie e Savona, il primo poco brillante e il secondo in difficoltà, spesso in fase difensiva, sovrastato dal gioco dell'avversario, quella di Konsei Sao, che a tratti ha cercato di rompere il pressing avversario ma senza riuscire ad incidere più di tanto, danno spazio agli entranti Locatelli, UEA e Cambiaso. Effettivamente qualche differenza ora si nota. Sulla destra, la coppia Cambiaso-UEA rende la manovra laterale destra più incisiva e forse lo Stoccarda decide anche di rifiatare e di gestire la gara. In questo momento Mota decide però di sostituire subito dopo Vlaovic con Adzic che si posiziona proprio a ridosso di Ildic che si accentra a sua volta come unica punta. Questa decisione però sembra non indovinata perché le occasioni arrivano ma Ildic e Adzic sembrano in difficoltà negli attaccare gli spazi giusti. Forse Vlaovic avrebbe sfruttato meglio le occasioni da gollo in quello specifico momento della gara. Poi il resto è pura cronaca. Il rigore parato da Perin, eroe della serata da voto 10 per il suo contributo su tutta la gara e il gol del vantaggio dello Stoccarda su un'azione in cui si notano errori che forse testimoniano come la mancanza di Bremer stia iniziando a farsi sentire. Tiriamo le somme. Mai come in questa partita la Juventus ha mostrato tutti i suoi limiti, anche in quella fase di possesso e di avvio sempre così efficace sino ad oggi. La mancanza di alcuni giocatori basilari come Bremer, Copminers, possono essere una scusante. Ma la serata storta di tutta la squadra, la poca qualità sul palleggio, negli uno contro uno e sulla velocità in fase di possesso è evidente e bisogna sicuramente migliorare in questo. Le colpe possono essere percentualmente distribuite tra l'allenatore e la squadra che oggettivamente non sono stati in grado di adottare alcuna contromisura. Certo lo Stoccarda ha pressato alto e anche bene con la stessa intensità per quasi tutti i 90 minuti, ma si sapeva che avrebbe concesso di conseguenza qualcosa in avanti. La Juventus però è sembrata impreparata proprio nella fase più importante, la ripartenza. Troppo basso il baricentro per poter dare supporto agli uomini più avanzati sia sulla manovra laterale sia nelle verticalizzazioni. E in ultimo troppa distanza tra i tre di centrocampo e gli esterni e di conseguenza una fase offensiva per niente efficace. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e attendo qui sotto i vostri commenti. Questo è tutto amici e alla prossima!